La storia 2021, diciassettesimo festival internazionale della storia, vi dà il benvenuto nella tenda Clio. Il festival è ideato e organizzato dall'Associazione Culturale Estoria, con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Gorizia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, della Camera di Commercio Venezia Giulia, del Ministero della Cultura, dell'Associazione Italiana Editori, dell'Università degli Studi di Trieste e dell'Università degli Studi di Udine, grazie al sostegno delle amministrazioni pubbliche, di sponsor privati e degli amici di Estoria, cui vi invitiamo ad aderire. Sta per iniziare l'incontro intitolato La Follia nell'Arte. Interviene Vittorio Sgarbi. L'incontro è sostenuto da Amgaera e l'appuntamento è trasmesso anche in streaming sul sito www.estoria.it. Scrivendo un messaggio via WhatsApp o Telegram al numero 331 1682 969, è possibile inviare alla social room di Estoria le domande per i relatori. Buona storia a tutti. Grazie. Grazie. Vi ringrazio della vostra presenza, ricordo l'ultimo incontro a Gorizia con una aula simile a questa, e cioè inguardabile, dal punto di vista di questi preservativi che creano, avendo palazzi, teatri. Mi è capitato anche a Gubbio qualche giorno fa per iniziare le celebrazioni per Federico Ramontefeltro. C'è questo strano gusto di muoversi in spazi provvisori di plastica in città meravigliose. Però immagino che ci sia una ragione. Non credo che non ci fosse una sala o un teatro sufficiente alle poche persone, che questa volta purtroppo siete, in virtù di una situazione certamente drammatica, ma che per dire bene del governo è prospettata per evitare ulteriori chiusure. Io ho parlato lungo con Draghi, manifestando per esempio un'incongruenza analoga a quella che potrebbe esserci oggi, cioè piazze o arene, dove si fa un concerto, dove suona una banda, dove si fa una conferenza, dove si fa uno spettacolo teatrale, con il Green Pass. E poi ai lati, a un metro, un bar, dove le persone stanno sedute senza Green Pass. Glielo ho detto, hai ragione, dice, però noi vogliamo convincere le persone a farsi il vaccino. Per cui anche qui è chiaro che c'è chi è dentro in una condizione e chi è fuori in un'altra. Speriamo che questa disparità che divide l'umanità in vaccinati e non vaccinati possa finire, perché evidentemente ognuno dispone di se stesso e anche della sua salute, sempre senza pericolo per gli altri. Non si può proibire il suicidio. Vedremo oggi tanti personaggi che hanno deciso di uccidersi e hanno fatto una scelta che ovviamente è contro la vita. Credo che il pericolo che hanno i vaccinati dai non vaccinati sia minimo, perché è evidente che se uno è vaccinato è come quando va in un paese del terzo mondo, possiamo dire, un paese dove ci sono dei rischi di malattie remote e non è che si preoccupa che tutti quelli che stanno in Nigeria siano vaccinati. È vaccinato lui, per cui l'ho sempre detto, ma sembra questa cosa non essere in grado. Quindi immaginiamo che tutto sia giusto e che quindi finisca presto questa condizione di disagio, ma vorrei chiudere ricordando che è buon diritto di ogni persona di non prendere un aereo. Sapete che i morti di incidenti stradali sono molti di più che in incidenti aereo, perché sono più frequenti gli incidenti stradali. Però se cade un aereo è sicuro che tu muori. Quindi mia sorella per esempio non prende aerei. Immaginare uno Stato che dica se è obbligato a prendere l'aereo sembrerebbe impossibile. È la stessa cosa. Se uno decide di non essere tra il 10% che è a rischio del vaccino, bisogna concordirgli di pensare a quel rischio come una possibilità. Purtroppo non accade, ma questo porta soprattutto in situazioni come queste. Credo che da domani avremo però le aperture dei teatri fino al 80%. Quindi io sono abbastanza ottimista, nonostante una lunga battaglia per cercare di portare la ragione, come quando dicevo nei tre mesi del cosmetto lockdown, che non si poteva impedire alle persone di andare in bicicletta, eppure ve l'hanno impedito, non potete uscire di casa, coprifuoco. Ora a Gorizia in qualunque anno, in qualunque mese, in qualunque giorno, di qualunque secolo, alle 10 non c'è nessuno per strada. E questo anche a Fossombrone. Quindi è inutile che tu dici che ora non puoi uscire. Cioè è una presa per il culo tecnicamente parlando. Detto questo, la condizione nella quale noi siamo porta a me una sola malinconia, oltre ai principi generali tante volte esposti, che siete un numero inferiore a quelli che lo avrebbero voluto, a quelli che io vi ricordo dell'ultima volta. Quindi questa non è la prova che non funziona bene e storia, che è un grande festival, ma è la prova che abbiamo dovuto corrispondere a regole che un tempo non c'erano. E quindi vi ringrazio voi che siete venuti, la vostra determinazione, e comincio a raccontare qualcosa che ha a che fare con un tema di malinconia o di visione autonoma, come quelle che alcuni hanno ritenuto di poter sostenere anche in questa situazione che ho descritto. C'è persone che poi acquistano con il tempo una grande gloria avendo fatto tutto per essere contro il loro tempo. Ebbene, 200 anni fa è nato quello che per primo ha testimoniato questa sensibilità inquieta, malinconica, attraverso la parola che splenna e soprattutto una sua reazione a qualunque convenzione, anticipando addirittura le precauzioni sanitarie di cui ho appena accennato, disse, questo scrittore di cui vi parlo, molti amici, molti guanti, per paura della rogna. L'idea della stretta di mano, che oggi è temporariamente sospesa, evidentemente a lui determinava una reazione contro il resto dell'umanità. Un individualismo estremo, con una dimensione di grande e abissale tormento interiore. Si chiama Charles Baudelaire. Baudelaire, il primo poeta moderno, è nato nel 1821. La visione di Baudelaire ha determinato un mutamento totale nella letteratura, non solo francese, e anche tutte quelle forme di libertà intesa come stravaganza, come uscita dalle regole, che ha caratterizzato, dopo la seconda metà dell'Ottocento, a partire da lui, per esempio, l'impresa di Rimbaud, un altro di cui non sappiamo il confine fra la ragione e la follia. Rimbaud, come sapete, muore a 40 anni, ma la sua opera poetica, che è rappresentata da illuminazioni e pochissime altre cose di un giovane che ha 18 anni smette di scrivere e poi comincia a vendere armi in Africa e vive una condizione allucinata. Eppure è il primo poeta moderno. Quello che si deve è la formula Il Fautetre Absolument Moderne, da cui parte tutta la vicenda delle avanguardie. Quando le avanguardie si rincorrono, nel Novecento soprattutto, per cercare di fare cose sempre più capricciose, provocatorie, pensate all'ordinatorio di Luchamp, alla merda d'artista, tutto quello che caratterizza un secolo di continua rincorsa per dire cose nuove mai prima dette, discende da quella frase che dice un ragazzo di 18 anni Il Fautetre Absolument Moderne, che vuol dire che non puoi essere bravo ripetendo quello che altri hanno fatto, devi inventare una visione nuova, in un'alterazione mentale che è evidentemente molto... molto confina con la follia, è comunque un modo di non vivere nella società in modo tranquillo, di rompere gli schemi e i ritmi della vita ordinaria, di vivere in modo che oggi è stato fortemente normalizzato dalle leggi, ma che allora era trasgressivo e c'è una vicenda omosessuale con l'altro grande poeta malinconico e lirico Berlain, con cui sono stati una coppia fissa e hanno determinato anche fra loro una serie di inquietudini e di disagi, anche personali e caratteriali, che hanno reso infelice la vita di Berlain. E quindi sono i modelli dai quali nasce una sensibilità moderna che è sempre più volta alla provocazione, se l'arte è sempre stata provocazione, è sempre stata la trasgressione, dire e trasgredire, mai come nel Novecento la parola provocazione è stata una parola d'ordine, cioè qualcosa che era necessario per stupire e cambiare, pensate poi ai futuristi, a tutte le avanguardie, fino alla discontinua opera che è un oggetto preso da uno spazio e messo nel museo, che è il famoso allenatorio de Luchamp, 1917, cioè ormai più di cento anni fa, è un'opera antica, eppure chi lo vede rimane ancora stupito. Ecco, tutto questo ci dice che con Baudelaire, e subito dopo con Rimbaud, che lo guardava con grande attenzione, e poi con tutto quello che ne è seguito, inizia una stagione in cui la follia e la sensibilità delle persone che sono fuori dalla società diventa un elemento caratterizzante, la creatività più straordinaria. Fino a quel momento il folle era estraneo alla società e bloccato, era chiuso. Da quel momento, dalla fine dell'Ottocento, la follia diventa una chiave per capire il significato più profondo di alcune espressioni artistiche. Ma prima di entrare nella indicazione di alcune delle opere che vi voglio mostrare, vorrei leggervi Il fiore del male, il diciassettesimo del libro di Baudelaire, che è dedicato a un teologo. Mi è sempre colpito questa poesia perché si intende la superbia e l'orgoglio della ragione come l'elemento da cui scaturisce la follia in contraddizione con l'ordine del mondo, che è il mondo cristiano, che è il mondo di Dio, che è il mondo in cui tu hai un'autorità a cui ti riferisci, a cui credi a priori, non discuti, e fino a qualche tempo fa la fede era un dato certo, oggi è un dato incerto, ma abbiamo avuto per 50 anni dopo il fascismo un partito che si è chiamato, essendo laico e non confessionale, democrazia cristiana. Oggi non sarebbe possibile, oggi abbiamo dei partiti che sono come gli alberghi 5 Stelle, noi per l'Italia, Italia Viva, credono di essere in Messico perché chiamano tutti i partiti Italia, Italia, i partiti Italia, cioè sono dei dementi senza cervello, poveretti, guardarli con un po' di mente, però un tempo c'erano comunisti, liberali, repubblicani, c'erano delle famiglie, delle idee, dei pensieri, dal pensiero derivava l'azione politica, ma l'emozia cristiana poteva sembrare un partito del Vaticano, invece no, era semplicemente la coscienza che i valori cristiani sono valori universali, un cittadino è cristiano, come nel mondo musulmano ancora avviene questa rete stretta tra religione e vita civile, ma questo non voleva dire che la religione condizionasse fino in fondo la vita civile, voleva dire che la dimensione cristiana era una dimensione di un codice etico e comportamentale e perfino civico che caratterizzava gli italiani, quindi mio padre non poteva pensare di non essere cristiano, Croce, grande liberale, scrisse non possiamo non dirci cristiani, quindi è chiaro che questa grande religione che ha rappresentato duemila anni di civiltà e civiltà nelle cose, nessuna religione ha espresso tanta bellezza come la religione cristiana, quindi la bellezza in sé è la prova che Dio esiste anche se non esistesse, tutto questo è diventato un codice del mondo che si è lentamente inclinato proprio negli anni di cui vi sto parlando con Nice per esempio che dichiarò Dio è morto, la morte di Dio è l'inizio di uno sgretolamento di valori, di una struttura della società che diventa altro e poi il Novecento continua questo che vi ho detto e il nostro tempo è un tempo in cui la fede è se può essere una vicenda individuale come dovrebbe essere ma è certo che quella religione individuale quella fede personale è quella che ha ispirato l'ordine del mondo. Allora Baudelaire coglie proprio lì il punto di rottura tra la sua esperienza e il mondo circostante che è regolato da una serie di comportamenti che sono allineati con i valori religiosi e diventano poi valori civili e immagina nel Medioevo non oggi cioè non lui lui lo è quello lui che descrive è se stesso quando si inizia a sgretolare quel mondo e quindi quando è possibile assumere quella posizione che ti considerano folle o no che ti considerano alieno o no però tu quella posizione la puoi assumere della posizione infatti della modernità pensate poi ai filosofi del novecento come Sartre alle personalità come Pasolini a quelli che contaminano come Pasolini dei testori il mondo cattolico e il mondo comunista cioè una visione che lentamente rielabora posizioni individuali al di là di quelle dogmatiche ma lui immagina cosa poteva capitare a un teologo del Medioevo il quale avesse con la ragione che abbiamo noi oggi pensato che Dio non esiste pensato che Dio è una creazione degli uomini pensato che Dio sì speriamo che esista perché gli uomini hanno il desiderio di non morire gli artisti creano e non muoiono con le loro opere gli uomini sperano che ci sia una vita dall'altra parte in cui quello che non ha funzionato qui funzionerà di là è strano pensare al cielo perché si parla del cielo dove sta la Madonna che è stata assunta con il suo corpo unico essere umano in questa condizione e soprattutto il luogo dove stanno i nostri amati defunti nel cielo c'è un mondo di perduti strano però che per arrivare al cielo ti mettano sotto terra una strada strana cioè appena tu muori ti mettono sotto terra dentro una barra e compro una barra con la terra io ho sempre pensato che è strana via al cielo che passa attraverso la terra quindi dobbiamo immaginare che quelli là sotto con le loro anime salgano in cielo dove noi li possiamo vedere e aspettare che ci aspettino quindi è chiaro che queste contraddizioni che sono nella esistenza degli uomini determinano una serie di reazioni individuali ma nel medioevo pensare che ci fosse un teologo che diceva sì figurati tu sei una mia invenzione non esisti porta a quello che sentite in questa meravigliosa poesia di Baudelaire a quei meravigliosi tempi quando rigogliosa fiorì la teologia con energia raccontano che un giorno un dottor fra i più grandi dopo aver sforzato i cuori indifferenti averli rimescolati nelle loro nere profondità dopo aver superato strani sentieri per le celesti glorie che lui stesso ignorava e a cui soltanto puri spiriti forse erano venuti come chi sale troppo in alto preso dal panico esclamò vinto ed esaltato da un orgoglio satanico Gesù o piccolo Gesù tu posto in alto ma se attaccarti nel tuo lato debole voluto avessi l'ignominia tua sarebbe stata pari alla tua gloria e tu saresti un feto delisorio pensate nell'ottocento scrivere Cristo feto delisorio Cristo invenzione della mente di un teologo è una poesia totalmente dissacratoria il libro fu infatti censurato ritirato dal commercio ma come commenta per riparare questa bestemmia che scrive Baudelaire qual è il destino di questo dottore di questo teologo subito la ragione lo lasciò di un nero velo si coprì la fiamma di quel sole irruppe tutto il caos in quella intelligenza un tempo vivo tempio in cui tutto era ordine e opulenza e sotto i cui soffitti tanto fasto aveva scintillato in lui il silenzio prese di mora con la notte come in una cella la cui chiave è persa da allora egli fu simile alle bestie di strada e quando andava ciecamente per le campagne senza riconoscere le stati dagli inverni sporco inutile brutto come una cosa logorata zimbello era e la gioia dei ragazzi ecco avete sentito questa conclusione di questa così orgogliosa dichiarazione di questa superbia l'uomo era un grande teologo che è paragonato a un tempio a un sole a una fiamma che viene coperta da un velo la sua intelligenza crolla e il tempio vivo che era la costruzione della sua mente in cui tutto era ordine e supplenza è come un'architettura i cui soffitti avevano scintillato per gli ori e tutto questo crolla improvvisamente tutto questo crolla pensate a una a un terremoto che occupa la vita di una persona in lui il silenzio prese divora e quindi perde la capacità di ragionare come in una cella la cui chiave è persa si perde quindi anche la chiave di quella quello spazio che era lo spazio della sua mente e da allora diventa simile a zimbello dei ragazzi sporco brutto ecco questa condizione che descrive Baudelaire era in realtà proiettata all'indietro certamente quello che la società come la società che ha inventato le streghe doveva considerare uno che fosse uscito dalle regole con un'affermazione così violenta e blasfema come quella che vi ho letto in cui Cristo diventa un feto delisorio ma è viceversa la condizione naturale in cui si muove l'uomo del tempo di Baudelaire e cioè l'uomo moderno che comincia a vedere il mondo sotto un altro punto di vista quindi da una parte Nietzsche come dicevamo dall'altra parte Baudelaire questo è il ritratto loro e quindi condiziona l'artista ha una dimensione ha una dimensione asociale talvolta al ricovero in manicomio talvolta ha una dimensione di disprezzo e comunque di fuori della società e infatti sta descrivendo la figura più emblematica nel mondo dell'arte di questa condizione che è Van Gogh da lì a poco non passeranno molti anni Van Gogh rappresenterà nella sua figura proprio l'uomo che sta sulla strada l'uomo che non ha nessuna considerazione sociale ed era il più grande pittore della modernità quindi è un crinale molto sottile c'è un passaggio minimo tra la considerazione altissima che consacrerà Van Gogh e Baudelaire e il momento in cui loro vivono nella coscienza di rompere uno schema e cambiare il mondo ecco mi pare che fosse importante quindi ritenere che il tema dell'arte e della follia è un tema relativamente moderno non potremmo immaginarlo nella pittura del Cinquecento o del Seicento potremmo immaginare dei personaggi bizzarri singolari anche di una personalità forte come quella di Michelangelo ma non sono matti invece la possibilità che una persona fuori di testa sia un grande artista comincia con la fine dell'Ottocento quindi quello che vedremo prima è il contenuto del mondo della follia che è quello di cui parla Ariosto nell'Orlando Furioso dove immagina che quando Astolfo sale con l'ippogrifo sulla luna veda sulla luna come si immagina anche nelle visioni alla Elon Musk di un mondo che è una colonia in cui si potrà andare ad abitare come la costa Smeralda un giorno uno parte forse che capita in fracento ci saremo più noi ma uno vada sulla luna come in un posto di vacanza e arrivando lì vede che tutto quello che c'è sulla terra c'è anche sulla luna quindi il desiderio di ricchezza quindi la ricerca della felicità e tutto quello che fa un'osservazione che riguarda proprio il nostro tema e dice sola follia non ve poca né assai che sta qua giù e non si parte mai cioè l'unica cosa che non c'è sulla luna è la follia che è quella che caratterizza Orlando quindi la follia è proprio una dimensione dell'uomo che è in piena contraddizione fra la dannazione che porta chi la vive e la felicità che porta chi la guarda cioè paga con la sua vita il folle paga con la sua infelicità paga con la sua sofferenza ma crea qualcosa che ci appaga ed è il caso di Van Gogh dalla sua malinconia dalla sua follia noi traiamo un beneficio visivo vediamo qualcosa che è la sua mente una radiografia della sua mente questa è la vicenda per questo che la follia sta qua giù e non se ne parte mai non possiamo pensare di liberarcele di dire va lì le cose che non ci piacciono le mandiamo sulla luna mandiamo le cose che fanno parte della marginalità dell'esistenza no la follia è propria solo della terra ecco questa considerazione che mi viene paragonando Baudelaire a Ariosto è per dire appunto che quello che era negativo per Orlando e per Ariosto inizia a diventare positivo nella seconda metà dell'Ottocento ne avete letto il punto d'abbrivio con Baudelaire e d'altra parte quello che vedremo ci darà la sensazione che quella follia è una follia produttiva creativa e la materia per me è stata particolarmente cara che quando ho finito una parte dei miei studi classici e ho iniziato a produrre mostre avevo in mente di fare alcune mostre che in parte ho realizzato una vive ancora e potrebbe arrivare a Gorizia o a Trieste come sede definitiva si chiama Museo della Follia è stata concepita quando ero sindaco di Salemi quindi ormai più di dieci anni fa a fianco dell'altro museo che ho realizzato e che poi ho duplicato anche alla Biennale di Venezia nel 2011 che era il Museo della Mafia intesa come un mondo finito e quindi come se fosse un museo archeologico è vero che la mafia c'è ancora ma è vero che portarle in un museo vuol dire consacrarle la fine e guardarla come una storia che puoi misurare in distanza dopo quel museo pensai ma c'è una radio che sta funzionando qualche coglione che deve sentire una partita di calcio che cos'è? ah fanno due conferenze addirittura come Cesgarvi fanno due conferenze questo può essere e però il capo Ossola è qui potremmo fare l'escavazione ma sono matti ecco perché è il festival della follia ma quindi tu hai messo un altro di là vabbè comunque sentendo la sua voce sarà bravissimo immagino ma non mi ricordo più dove ero rimasto ero rimasto a questa idea che ho avuto di costruire delle mostre tematiche e quindi dopo il museo della mafia ho concepito il museo della follia ma hanno sciolto il mio comune per mafia perché sapete che l'azione giudiziale invece sulla trattativa deve inventare dei modelli per dire come siamo bravi a combattere la mafia quando sono tutti dal cimitero nel paese di Sraimi non c'era più un solo mafioso erano tutti e quindi hanno sciolto il comune e me ne sono andato e ho portato la mostra nel 2014 o 2013 a Matera che attraverso anche quella mostra ha vinto come dire la gara per essere capitale europea della cultura il museo della follia è una costruzione in cui si raccontano le varietà dell'alterazione mentale per gli artisti che partiva da una precedente mostra che avevo fatto a Siena quando c'era il monte dei Paschi che era la mostra arte, genio e follia costruita in modo molto complesso da quella poi è derivato questo museo che ha fatto diverse tappe un museo in qualche modo che non ha pace un museo della follia appunto un museo itinerante e la seconda tappa è stata a Mantua che è diventata infatti capitale italiana della cultura la terza tappa è stata a Salò un'altra tappa è stata a Catania un'altra tappa è stata a Napoli dove il terminale era da Goia a Maradona quindi immaginate come la follia possa prendere appunto anche i tifosi che perdono temporaneamente la testa e l'ultima edizione a Lucca con centomila visitatori con un percorso molto elaborato adesso il museo è sospeso in attesa di riaprire a Palazzo degli Diamanti il 2 settembre del 2022 quando speriamo di essere usciti da questa vicenda epidemica e di poter riprendere a vedere grandi musei come appunto Palazzo degli Diamanti la destinazione finale potrebbe essere Gorizia o nelle aree diciamo alla Basaglia dove il museo rappresenti come hanno sofferto gli uomini quando i manicomi erano aperti e si riteneva che fossero dei malati pericolosi per la società è il concetto appunto di chi è pericoloso per gli altri che determina i manicomi ma è anche il modo per isolare dalla società quelli che non sono d'accordo quindi c'è sempre un confine fra la salute e la democrazia l'idea di liberarsi di quelli che potrebbero essere inquietanti per l'ordine della società esattamente come il teologo di Baudelaire e quindi la vicenda che rappresenta proprio una delle storie importanti dei tempi moderni cioè della chiusura dei manicomi con l'impresa di Basaglia è piena di slanci e di ammirevole visione di un mondo dove la persona che ha disagi mentali non è emarginato è giusto è vero anche che rischia di non essere curato rischia di vivere nella insufficienza delle sue energie e senza che qualcuno magari in modo violento come poteva cadere nei manicomi si occupi di lui ma dove c'è in un manicomio dove c'era una disponibilità amorosa abbiamo visto una pagina meravigliosa di uno dei grandi scrittori del novecento che si chiama Mario Tobino autore delle libere donne di Magliano che è stato appunto a Lucca medico primario dell'ospedale psichiatrico e che era su una posizione opposta a quella di Basaglia come capitava con muccioli e pannella ogni tema vede persone di grande volontà e di grande passione che hanno idee diverse poi forse uno dei due sbaglia però certamente l'idea di stare vicino ai malati e curarli muoveva l'appassionante vicenda umana di Mario Tobino che è stata quella perdente perché ha vinto viceversa la posizione di Basaglia per cui sono stati chiusi i musei e rubricate quelle malattie in un modo non incompatibile con la vita in casa ma vi faccio un esempio io mi sono occupato sempre nel periodo in cui andavo a cercare il tema della follia come un tema scatenante dell'arte di un pittore che si chiama Tarcisio Meratti immagino anche che avremo qualche immagine sua qui e forse vorrebbe la pena di anticiparla no non l'hanno messo tra le immagini Tarcisio Meratti era un come accade spesso negli artisti che stanno in manicomio del genere di 34 vediamo Carlo Zinelli veronese si capisce che un'ossessione porta questi artisti ad avere una grande accensione di fantasia ma dei temi che sembrano come riprodursi in un modo ripetitivo sia individualmente sia come schema che appartiene alla persona che è chiusa come una gabbia di concezione compositiva e quindi se tu vedi le opere di uno che è stato in manicomio senti che tira quell'aria e mi piacerebbe mostrarvela purtroppo vedo proprio che non c'è però insomma io l'ho conosciuto Tarcisio Meratti le sue opere erano più o meno come questa immaginate con questa specie di concentrazione delle forme questa specie di brulichio della mente e avevano una grande armonia ebbene ogni tanto siccome si comportava bene lo mandavano fuori del manicomio e le sorelle perfide lo costringevano a fare delle opere di artigianato inannellando delle perline e lui era incazzatissimo non vedeva loro di tornare in manicomio per lavorare cioè tutto voleva meno che essere libero perché la libertà voleva dire il lavoro voleva dire l'oppressione voleva dire un mondo in cui la vera follia è fare delle cose meccanicamente oltre parte io in televisione una volta litigai con una celebre fotografa che è anche ammirevole che aveva messo delle bruttissime panchine in una piazza ed era il mi ricordo era l'assessore alla vivibilità che non c'è in nessuna città se non a Palermo perché è una città invivibile evidentemente altrimenti non metteresti un assessorato alla vivibilità e aveva pensato di avere quest'idea di far timbrare il cartellino ai matti ora se c'è una cosa folle è timbrare il cartellino è un modo meccanico per irregimentare le vite quindi uno diventa matto per non timbrare il cartellino pur di non farlo e lei voleva timbrare a questo punto l'ho mandata a fare in culo cose che non era però scusa ma tu come ti viene in mente di far timbrare il cartellino ai matti uno diventa matto per uscire dalla società ma era un paradosso che in quegli anni molti anni fa più di trent'anni fa mostrava la mia libertà di pensiero rispetto a queste cose ovviamente la battaglia la faceva in buona fede era l'idea di dare un ordine al mondo di mettere a posto tutto che piace al mondo come vediamo in questa emergenza sanitaria ma non c'è rispetto per chi non è d'accordo ora il matto è uno che non è d'accordo per definizione e questo era il classico Meratti quello che vi ho accennato che mi raccontava dice io non vedo l'ora che mi rimangino in manicomio così ho una bella stanza e faccio le mie opere per i cazzi miei e le mie sorelle non mi tormentano facendomi fare delle collanine inanellando le piccole pelle ecco questo per dirvi come è vero che la posizione di Basaglia è una posizione di riconoscimento della malattia mentale come qualcosa la cui pericolosità è più in chi la percepisce che in chi la vive e quindi aprire i manicomi e dare i malati alle cure dei loro familiari salvo poi trovare RSA altri luoghi in cui ricoverarli con definizioni analoghe di malattie che non sono propriamente l'alterazione mentale ma invece Tobino pensava che tutte tutti i suoi soprattutto le donne che erano in manicomio avessero un nome un cognome e un problema che richiedeva attenzione amore passione la volontà di dedicarsi a loro era questo che faceva il medico Tobino d'altra parte forse voi non sapete mi viene in mente rispetto al tempo che tu dai a un altro che la cosa più importante che vuole fare un uomo ama il prossimo tuo come te stesso è dare il proprio tempo a un altro occuparsi di un altro essere vicini a un altro e non per lavoro ma perché è il modo con cui noi mostriamo la nostra umanità la ragione per cui ci sono nel Galateo tre formule d'uso che invece sono come dire ritenute negative una è buon appetito uno sta a tavola e mangia il mondo è pieno di gente che muore di fame almeno risparmiati di una strozzata quindi non dite buon appetito perché uno che a tavola mangia quindi c'è poco da augurare l'altro è non portare vedo un signore che in questo è perfetto il fazzoletto nel taschino altro che bianco quelli che lo portano concordato con la cravatta sono così delle fighette perché vogliono fare i bellini da vedere in realtà il fazzoletto deve essere come quello che porta Conte l'unica cosa buona che ha fatto nella sua vita un fazzoletto che uno può estrarre per soffiarsi il naso quindi il fazzoletto o è bianco o non è lo sai bene tu che lo porti quelli che portano questi fazzoletti rosso, viola tutti così fantastici come dei cantanti no sì certo va bene cose alla fede se diciamo che van benissimo nella dimensione di chi deve farsi vedere ma sono fuori dal comportamento del galateo la terza ancora più incredibile perché il 95% di voi la dirà pensando di dire una cosa buona è piacere voi incontrate dieci persone e dite piacere 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 perché avete trovato il gruppo che vi aspetta e quel piacere è evidentemente una formula molto rapida che vi consente di non vedere quello a cui lo dite quindi di dimostrare di essere maleducati perché non vi concedete il vostro tempo la formula va cambiata in sono molto felice di conoscerla in quei pochi secondi tu hai tempo di vedere la faccia e di dare un po' del tuo tempo che è la cosa più preziosa che abbiamo a un altro quindi piacere 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 è meccanico e ripetitivo la parola piacere di per sé non è negativa puoi dire anche mi fa molto piacere di conoscerla ma è il tempo che deve dare all'altro la considerazione della sua esistenza ecco perché piacere non va detto quindi qui siete un gruppo di persone quelli non lo sanno un gruppo dall'altra parte non lo sa e quando li vedono diranno piacere voi dite no scusi scusi si fermi si fermi mi fa molto piacere di averla incontrata così li prendete per il culo perché loro non capiranno perché li bloccate ma voi li guardate con la superiorità di chi considera che appunto quello che puoi dare all'altro è il tuo tempo ecco da questo punto di vista non so perché sono arrivato a questo discorso nel piacere ma no era perché parlavo di Tobino Tobino è un meraviglioso scrittore io lo conosco bene perché essendo figlio di un farmacista che è stato il mio grande padre che ha fatto quattro libri prima di morire ci ha lasciato quattro libri di memoria tra i 93 e i 97 anni è lo scrittore più antico che abbia mai pubblicato libri poi da questo è derivato un film di Pupiavati che qualcuno avrà visto ma quando ero piccolo mio padre comprava i libri che costituiscono l'inizio della mia biblioteca da un signor Carlini che veniva con una giardinetta e come mi sembra giusto a quelli che non vanno in libreria portava il libro a casa per cui comprava tutti i libri della Bur comprava i libri premio Campiello premio Strega a un certo punto arriva un libro che chiama Il figlio del farmacista io l'ho subito adottato era il 1961 io avevo nove anni e ho letto quel libro e ho capito che questo scrittore era uno scrittore pieno di umanità poi certamente anche uno scrittore molto rilevante ma era soprattutto uno psichiatra e ha combattuto contro Basaglia per dire quello di cui hanno bisogno i matti è attenzione è il tuo tempo è che tu li ascolti è che le libere donne di Magliano si possono sfogare ecco è una ricetta diversa da quella di Basaglia ma è quella su cui si è costruita l'ultima edizione del museo della follia mettendo insieme questi due modelli insieme alle tante comuni vicende e cose che rappresentano il mondo della follia nella dimensione creativa ma cominciando adesso dopo questa premessa e in attesa che me l'aveva chiesto anche l'amico Ossola di portare una piccola mostra un segmento di mostra e forse si poteva anche fare con le more del covid in coincidenza con la mostra della follia con il convegno sulla follia ma probabilmente si potrà fare più avanti potrà proprio essere Gorizia la città in cui questo museo trova pace detto questo vi do appuntamento il 2 settembre del 2022 per la mostra il museo della follia Ferrara però se noi pensiamo al passato vediamo che il tema della follia non è un tema di coscienza individuale di chi lo vive e attraverso la sua sofferenza produce qualcosa che da un lato lo solleva lo libera lo fa vivere in un altro mondo lo libera dal mondo di infelicità della società in cui è costretto in manicomio ma è un tema che riguarda l'emarginazione che riguarda il disagio sociale e infatti lo troviamo se pensiamo prima di Van Gogh a un autore che ci richiama la follia pensiamo a Hieronymus Bosch ma certo Bosch era tutto meno che un folle era in grado di proiettare dalla sua mente un'immagine visionaria potremmo dire surreale con una parola che poi ha trovato nel novecento la sua rappresentazione in un movimento artistico importante ma il surrealismo come dire permanente il surrealismo a priori di Bosch è una visione del mondo e corrisponde più o meno ai tempi di Ariosto con i versi che prima vi ho detto numero due ecco purtroppo i tempi di crisi inducono l'amico Ossolo a fare delle piccole riproduzioni per cui non si vede niente però che dobbiamo fare purtroppo e quindi fidatevi che l'immagine che vedete si chiama la nave dei folli io per la verità vedo piuttosto vediamo la numero tre ecco qui la vedete bene ecco l'idea che si possa fare quello che lui definisce il concerto nell'uovo e la meraviglia di questa straordinaria concezione è una fantasia della quale è tutto quello che è alieno cioè l'umanità ha alcune regole ma la nostra mente c'è tutto c'è la libertà la nostra mente ci consente di fuggire dal mondo e Bosch che è un pittore di grande metodo e di grande tradizione pittorica inventa questa idea che tra l'altro è un tema che percorre la pittura precedente alla sua del medioevo con il mondo dei morti e dei vivi a confronti i trionfi della morte i trionfi della morte sono delle grandi allegorie che ci fanno capire che è giusto credere perché vediamo tre cavalieri che avanzano camminano vanno a caccia e a un certo punto vedono tre bare in cui ci sono loro si sdoppiano e si rendono conto che il destino di ognuno di noi è finire come sono finiti i morti quindi la nostra è una condizione provvisoria ecco questa visione così allucinata dei trionfi della morte che sono diffusi da Pisa fino a Baschenis nel nord Italia e che sono moniti per far sentire che c'è che un memento mori che ci fa pensare che dobbiamo immaginare un altro spazio in cui continuare la nostra vita diventa la base delle invenzioni di Bosch il quale come vedete immagina questa specie di piattaforma una specie di disco volante in cui c'è un'umanità varia ci sono musici ci sono frati c'è un cardinale o un papa là dietro siamo tutti dentro questa bolla questa specie di disco volante che è un uovo dentro cui avviene un concerto quindi questo è il modo per fuggire dal mondo come vedete nel volo di questo guscio di uovo perché il mondo brucia qui c'è il mondo che brucia e quindi ti salvi andando altrove è una visione assolutamente straordinaria che ci dice come appunto la follia sia intesa in un mondo in cui non c'è spazio per i malati e per i matti e contemporaneamente come sapete il classico del rinascimento su questo tema è l'eloso della follia di Erasmo da Rotterdam di cui vediamo qui quattro un ritratto di Holbein vedete che non c'è persona che ha un'aria più saggia composta ragionevole di questo che parla della follia intesa come una libertà interiore e quindi crea l'inizio il paradigma di quello che verremo lentamente vicendo poi ci sono li avete anche qui nella bellissima fondazione dove io tante volte ho visto il barone che mi riceveva con un'aria un po' da folle con i capelli tutti rossi circondato da capolavori che oggi appunto sono aperti al pubblico nella fondazione coronini krenberg che era per me una visita che ormai vedo come un altro mondo perché lui era vivo io andavo a trovarlo la casa era chiusa adesso è una fondazione aperta ordinata molto ben diretta dove si fanno mostre ma si affacciano delle opere singolari che sono le prime testimonianze di una deformazione nella scultura che ha sempre un assetto classico pensate da Michelangelo a Canova ma appare alla fine del settecento quindi più o meno nei tempi di Canova un autore che si chiama Mescherschmitt che fa delle teste di carattere numero cinque che rappresentano vedete le variazioni degli atteggiamenti allucinati di volti di personaggi che sono tutti meno che classici guardate queste deformazioni le urla pensate che noi abbiamo il primo urlo che abbiamo in mente e che appartiene anche a una dimensione di alterazione è l'urlo di Munch siamo agli inizi del novecento quello è l'urlo per eccellenza che è il tentativo di fuggire da un mondo dove l'ordine è oppressione quindi uno scappa quella è l'emblema della libertà della follia ma molto prima siamo nel 1670 Mescherschmitt inventa queste tipologie di caratteri di facce che sono al di fuori della compostezza della misura dell'ordine sono come la faccia interiore di Ossola Ossola avete visto che sembra una scultura è sempre fermo una Buster Keaton non altre ma dentro di lui è così questo è Ossola dentro continuamente e con il mondo di noi è così cioè Mescherschmitt ha portato fuori quello che è dentro di noi ha portato fuori la rabbia il malumore l'ironia l'urlo la malinconia e quindi queste tipologie eredono questa personalità assolutamente il primo in assoluto che nell'ambito della scultura classica sceglie questa deriva l'altro che più o meno nello stesso tempo vent'anni dopo lavora sui limiti della ragione sui confini della ragione e sulla necessità della ragione per cui improvvisamente accade qualcosa per cui tu perdi il controllo del mondo lui lo chiama sonno della ragione e cosa fa il sonno della ragione genera mostri numero 6 come capita oggi questo è Draghi che si mette lì mi vengono fuori tutti questi uccellacci che sono poi le misure di sicurezza che il suo governo propone che sono delle forme di follia collettiva come quella che viviamo noi voi siete qua nell'assoluta certezza che siamo all'aria aperta che nulla vi ricordate quando eravamo piccoli dicevano andiamo al mare per prendere l'aria sana andiamo in montagna quindi l'aria aperta è il massimo eppure nonostante questo io ve lo posso dimostrare attraverso un documento governativo voi siete tutti qua con la mascherina naturalmente siete preoccupati e vi capisco ma è l'alterazione questa qui esattamente dalla mente di Draghi escono delle mascherine che sono tutte quelle che vi inducono a fare qualcosa che non ha logica perché è evidente che l'aria aperta è meglio di questa specie di aria chiusa che voi ma non bastando questo l'aedo di questa visione che è il ministro Speranza interrogato da me dopo quattro mesi di chiusura tutti in casa ci dice questa cosa che vi ricorderete finché continuate a sopravvivere nei luoghi all'aperto riscontriamo una difficoltà molto più significativa nella diffusione del contagio cioè è molto più facile contagiarsi al chiuso che all'aperto l'avete capito quindi potevate stare all'aperto e vi hanno chiuso in casa quindi vi siete contagiati perfetto io l'ho detto tutto il tempo certo che non ho nulla contro vaccini o d'altro però l'irragenorezza quella io facevo le multe a sutri a quelli che andavano in macchina da soli con la mascherina gli multavo però capite che questo è il tentativo di dire cerchiamo di ragionare cioè qui siamo all'aperto quindi il rischio non c'è però uno lo sente lo stesso così eccolo qua il soldo della ragione già è della vostra noi viviamo in un momento di soldo della ragione siamo nel 1797 continua un grande maestro qui siamo al culmine alto della pittura del romanticismo in Francia che è Géricault il grande pittore il cui destino si misura normalmente con quello di Delacroix il grande pittore del romanticismo francese che fa vedere una condizione che è allegorica che però richiama quella dei tanti migranti a cui ci richiama l'articolo 10 l'opposto di quello che pensano i leghisti o che dicono i leghisti la necessità di accoglienza è chiaro che la quantità pone dei problemi di distribuzione ma l'articolo 10 è chiarissimo dice la Repubblica ha il dovere di accogliere tutti quelli che vengono da paesi in cui c'è una costituzione che non garantisce i diritti che garantisce la nostra tutti gli altri paesi Turchia Libia Marocco sono tutti luoghi in cui alcuni sono profughi e vanno bene gli altri sono migranti economici sono dei disperati i quali salgono sulla barca e su quella barca mettono a rischio la loro vita quella dei loro parenti dei loro figli perché vivono in una condizione di inadeguatezza certo aiutiamoli a casa loro sì ovvero se fosse possibile ma è chiaro che i diritti delle donne i diritti degli omosessuali i diritti delle persone che lavorano i diritti della libertà d'opinione sono interdetti in quei paesi vedete la Turchia e quindi chiunque venga di lì ha diritto di essere accolto articolo 10 non viene mai citato né applicato io l'ho cominciato a citare qualche anno fa senza fare polemiche politiche e lo ha recepito Mattarella certo che poi se arrivano ogni giorno mille persone non sai dove metterle però il tema esiste ed è un tema che è rappresentato in modo mirabile dal fatto che se uno di voi nessuno di voi partirebbe di qui per migrare in Libia non avete nessuno stimolo a farlo non salite su una barca a Gela per andare in Libia per cui quello che sale sulla barca qualunque cosa tu ne pensi che poi diventerà un delinquente cosa che è possibile è però uno che è disperato e vive quindi su una zattera nella condizione di alterazione rispetto a una normalità che non gli è consentita nel suo paese è 1818 la zattera della Medusa eccolo qua vedete già allora quello che tante immagini ci hanno mostrato in questi tempi questo gruppo di naufragati che cerca vanamente aiuto e speranza girando e muovendosi senza con una luce lontana che forse è la luce di qualcuno che potrà soccorrerli ma è contemporaneamente una metafora dell'alterazione mentale quindi la zattera della Medusa indica una inquietudine non soltanto della vita quotidiana ma anche della vita interiore e siamo arrivati al 1819 passando in Italia nel 1860 e quindi parliamo di autori che normalmente non vengono rubricati tra i matti alcuni come Bosch descrivono il mondo della follia altri descrivono come nel caso di Jericho una condizione di come dire disagio che peraltro si proiettano una serie meravigliosa che forse qui non abbiamo nelle immagini che sono proprio visite nei manicomi a Parigi per dipingere i matti cioè Jericho sceglie quel tipo di umanità che è un'umanità infelice non è il ritratto classico alla Engre il ritratto di una persona della buona società il ritratto di una persona pagata di un commerciante è il ritratto di disagi di vario genere questo è quello dei malati di mente in Italia affronta questo tema Silvestro Lega pittore macchiaiolo prima di diventare pittore della macchia dipinge numero 8 una adolescente e vedete la modernità di questo volto che è quello che a metà ottocento ci trasmette una inquietudine un turbamento noi abbiamo una percezione guardando questa ragazza il pittore è riuscito a concentrare in quel silenzio in quella fermezza qualcosa che è un movimento di turbamento interiore rappresenta come uno dei grandi pittori e non è riconosciuto normalmente fra i pittori più grandi qualcosa che riguarda ciò che abbiamo dentro non ciò che si vede fuori non è un ritratto come status sociale ma è una dimensione interiore la stessa che cinque anni dopo rappresenta un altro pittore volto alla pittura sociale che si chiama Michele Camarrano che dipinge quello che per secoli è stata l'emarginata per eccellenza la strega numero nove lo vedete qua purtroppo si vede poco ma è immaginata in questa dimensione di solitudine nel vento isolata sulle montagne con degli occhi rossi purtroppo non si vede bene però certamente la strega è per eccellenza una persona che è fuori dall'ordine sociale qualunque cosa faccia la si attribuisce e si attribuisce un comportamento dissonante pericoloso quindi è quella che non accetta l'ordine sociale e arriviamo nel 1965 nello stesso anno a una visione del contesto che pur è importante la prima volta che si rappresenta un ambiente di manicomio come un ambiente che la pittura può affrontare la pittura della sua grande tradizione affronta temi religiosi affronta temi di vita civile affronta temi però non si occupa di quello che sta ai margini Teremme Consigliorini altro grande pittore toscano dipinge nel 1965 questo luogo straordinario che ci dà il senso di una quasi mancanza d'aria è uno spazio grande un grande stanzone dove stanno le donne agitate al manicomio San Bonifacio a Firenze è un dipinto rivoluzionario la prima volta che tu vedi un ambiente in cui ci sono donne ce n'è una che è sotto il tavolo quella che si affaccia ognuna di loro quella che è in preca hanno nella capacità formidabile dei signorini una caratteristica che tu nella comunità del manicomio quindi una piccola società vivi una condizione di solitudine cioè sono venti persone ognuna sola anche se sono insieme non è una comunità come può essere quella delle suore che trova della preghiera un punto di riferimento comune qui sono insieme e ognuna vive una condizione di solitudine il pittore riesce a rappresentarlo vedete appare questa che sta da sola nello spazio anche le altre non dialogano non parlano una alza il braccio urla quelle altre stanno sulla porta in un silenzio inquietante grande spazio serve a far sentire che stanno in una condizione di vuoto chiuse sotto vuoto per essere sottratte al mondo creando una società che non è socievole è una società di matti che mentre noi siamo in una società che ha relazioni è una società senza relazioni ognuno vive la sua solitudine pur essendo a fianco dell'altro è un testo importante che ci rende come dire partecipi di una condizione che è molto realistica e che coglie signorini nella lucidità della sua visione intendendo quell'ambito lo farà anche un grande pittore che si chiama Angelo Morbelli andando a quello che poi è diventato noto come il più albergo trivulzio per ragioni diciamo di politica moderna che c'è ancora e che è un luogo in cui c'erano ricoverati i vecchi e dove entrava Morbelli rappresentando questi vecchi tutti insieme prevalentemente uomini e poi riprendeva lo stesso ambiente lo stesso defettorio il giorno di Natale quando uno spazio pieno come questo si riduceva a uno spazio grande e uguale con tre persone quelli che non avevano più nessuno che li portava a casa per Natale grande malinconia è un pittore formidabile Morbelli l'idea di far sentire tutti questi che stanno a mangiare insieme a mensa arrivano le feste e rimangono solo tre nello stesso ambiente con i banconi vuoti una luce che viene dalle finestre è una visione evidentemente che accomuna questi due artisti l'uno in un tema che riguarda la parte terminale della vita cioè le case di riposo tra l'altro io recentemente come presidente del museo di Roveretto qui vi invito perché oggi parto di qui e vado a inaugurare la mostra il falso nell'arte piena di cose divertentissime di falsari dell'ottocento di falsari anche attuali un pittore che è stato accusato di aver fatto un dipinto di Kranach per il principe dell'Ikstenstein che è stato sequestrato poi messo in un processo chiedendole l'arresto e che si chiama Frongia è un meraviglioso pittore non so se sia lui ma è l'ultimo caso dopo quello Modigliani dopo il caso di Rossena ma vi dicevo che nelle mie funzioni di presidente sono andato a vedere a salutare delle persone ricoverate in una casa di riposo erano circa 60 persone io sono arrivato come voi tutti seduti tutte erano 49 donne e 3 maschi come dire che gli uomini muoiono prima sono più le vedove dei vedove io ero anche più vecchio di alcuni di quelli che erano lì ma era impressionante tutte queste donne così con l'aria allucinata e tutte silenziose composte anche divertite che arrivasse Sgarbi ad aglietarle e io vedevo questi maschi uno senza una gamba un altro con l'aria così e tutte queste donne dominanti ecco questo interno che io ho visto è stato nella fantasia in tempi diversi di Morbelli alla fine dell'Ottocento per il Pio albergo Trivulzio e in un tema più specifico quello appunto delle agitate è stato il soggetto di questo meraviglioso telemago Signorini proprio con l'idea di questo spazio bianco questa specie di veramente l'idea di un ambulatorio o di un ospedale questi stanzoni di vecchi conventi dove non ci sono più le suore ma le agitate le agitate e arriviamo finalmente al pittore per eccellenza di questa presentazione del soggetto della follia nell'arte che è Van Gogh numero 12 ecco l'opera è particolarmente importante Van Gogh come più tardi Ligabue si è molto applicato più di altri artisti forse solo Rembrandt nel passato al tema dell'autoritratto che è importante perché è l'inizio della psicoanalisi in qualche modo cioè il pittore sceglie come soggetto la sua faccia in diversi momenti della sua vita in diverse attitudini come per controllare quello che gli sta capitando ecco l'inizio della pittura moderna con Van Gogh è questa autoanalisi questo specchiarsi questo mettersi davanti a noi facendo sentire qualcosa che lui ha dentro la potenza di Van Gogh che è un grande pittore ma non è il più grande pittore è di essere il pittore in assoluto più conosciuto e ammirato perché ci trasmette la sua infelicità che in qualche modo ci riguarda in questo caso lo vedete con quest'aria così mesta dopo che per amore ha compiuto il gesto fatale della sua vita di tagliarsi l'orecchio uno si taglia l'orecchio ed ecco che si fa vedere fasciato ho scelto questo per dire appunto che lui dopo questo gesto di follia si compone e si mette davanti a noi come in un ritratto classico vero che ha una giubba piuttosto trasandata vero però la composizione la finestra aperta il dipinto alla Gauguin che ha sulle spalle lo sguardo che in qualche modo si concentra ci dicono di una compostezza ritrovata ma noi sentiamo in quella compostezza qualcosa di terribile di traumatico che è rappresentato poi dal gesto stesso che lui illustra con la fascia che benda l'orecchio e così come ha dipinto se stesso nel 1989 dipinge 13 dipinge lo spazio esterno dell'ospedale Saint Paul cioè di un luogo dove lui viene ricoverato ma in cui non fa sentire diversamente da signorini la comunità sia pure anomala delle persone raccolte in quello stanzone ma sta sotto un albero davanti all'edificio mostrando una persona nella sua irrimediabile solitudine anche qui come vedete la pittura è una pittura che ha un'elasticità di segno che fa muovere la materia per trasmettere delle onde che sono onde pittoriche che diventano onde emozionali ecco la potenza di Van Gogh trasmettere emozioni trasmettere qualcosa che non è quello che vedono è un paesaggio non è un luogo dove tu riposi lo sguardo è un luogo in cui lo sguardo si agita perché ti trasmette la condizione di infelicità che lui vive e ancora l'esaltazione numero 14 anticipando ovviamente non potendolo neppure immaginare le tipologie e i dipinti di Ligabue che prima ho ricordato il giardiniere che è un dipinto interessante per noi perché oltre al museo di Amsterdam poche opere vediamo in Italia di Van Gogh una delle quali è questa un'altra è a Milano al museo d'arte moderna questa è a Ragnam la galleria nazionale d'arte moderna di Roma per una strana occorrenza un signore che lavorava nella politica italiana a fianco del grande Aldo Moro sereno freato tentò di esportare un dipinto della collezione Terni io conoscevo bene gli regni di Terni che hanno portato Terni era un pittore che era andato a Parigi nel 1907 aveva portato in Italia due quadri aveva scelti bene uno era un dipinto di Cezanne che è ancora nella loro collezione a Firenze e l'altro era questo Van Gogh per cui erano venuti in Italia e adesso valutare le leggi italiane sull'esportazione è una cosa che si può discutere però certamente le opere erano così importanti che era difficile immaginare che potessero ottenere di ritornare nel mondo e così freato porta quest'opera alla sovrintendenza di Palermo pensando che fossero tutti addormentati o collusi e invece l'opera viene bloccata vincolata e acquistata dallo Stato italiano che non aveva i soldi perché la vendita per cui si chiedeva l'esportazione era fatta a un grande mercante svizzero il quale ha dovuto abbozzare e attendere che lo Stato gli desse mi pare non più di vent'anni fa 10 miliardi il dipinto vale almeno 10 volte di più per compensare il suo acquisto si tratta di un grande collezionista che ha comunque dovuto accettare quel diritto di prelazione che ha fatto lo Stato questo ci consente di vedere il dipinto in Italia e vedete che questo pacificato contadino con questo cappellaccio in testa con questo sguardo così inerte che ci mostra però certamente una variabile rispetto alla ritratistica dell'Ottocento che è quella di questa immersione della natura e questa immagine di una persona come se fosse una pianta il contadino viene guardato con una immediatezza così diretta e così fatale da farci capire perché in Van Gogh ci fossero delle dotazioni mentali tali da fargli affrontare qualunque argomento in modo non pittoresco non anedottico non legato alla convenzione della pittura precedente ancora vediamo questo numero 15 siamo in Francia è in modo meno intenso e meno concentrato di Telemaco Signorini il tema delle malatte della charité a Parigi il pittore si chiama Moreau de Tour e vedete come appunto sono nella stessa condizione dei Signorini però con una pittura più illustrativa più pittoresca e quindi senza quel senso di angoscia che ci dava il dipinto di Signorini ma anche qua vedete però in questo gruppo di persone nell'alienazione sono incomunicanti fra loro e la mancanza di comunicazione che rende loro esterne alla società e ai rapporti relazionali arriviamo adesso l'ho accennato prima al dipinto chiave della uscita da se stessi che è numero 17 l'urlo di Monk osservate come qui si vada quasi oltre Van Gogh siamo un po' più avanti e quello che vedete è un personaggio che ha un volto che ha la forma di un teschio e sta procedendo solitario su un ponte mettendosi le mani alla testa come qualcosa che lo fa uscire di senno non è la follia è qualcosa di più complesso è l'angoscia l'angoscia è un sentimento prevalentemente moderno la paura che l'umanità ha provato sempre paura delle tempeste paura del terremoto paura di una cosa certa l'angoscia è una paura di cui non conosci la causa uno è angosciato perché sente dentro una ragione improvvisa senza avere delle motivazioni esterne di sofferenza e quindi è la paura di qualcosa di indistinto ed è esattamente quello che si trasmette per primo Munch nell'anno in cui nasce la psicoanalisi c'è una coincidenza perfetta Freud lavora al tema del tormento interiore del sogno e di tutto quello che è il profondo che tu non conosci e che ti viene improvvisamente ad aggredire e Munch ne dà una rappresentazione figurativa cioè la solitudine di una persona che fa sentire quello che gli capita dentro attraverso questa estensione verso il cielo di onde che sono onde interiori il cielo rosso il fiume e tutto questo sembra uscire dalla sua mente e sembra dare il senso di qualcosa che si muove dentro di lui ma non sappiamo perché sta scappando e non scappa certo dai due che è dietro non c'è nessuno che lo binaccia non è qualcuno che gli fa sentire la paura la paura è dentro di lui si chiama angoscia questo dipinto rappresenta questa condizione moderna che noi conosciamo nella nostra solitudine improvvisamente sentiamo un vuoto interiore che è come un senso di inappartenenza ecco quella angoscia è rappresentata da Munch il quale poi continua numero 19 con questo meraviglioso dipinto urna funeraria dove vedete eccolo qua dove vedete questo rimosso che scende che sta in basso e che sembra rifalire verso quest'urna da cui esce un'anima volante cioè sono visioni la pittura sta cominciando a perdere il rapporto con la realtà con quello che vede per dipingere quello che è dentro e l'ha cominciato con il romanicismo tedesco con Friedrich il pittore non deve dipingere quello che vede ma quello che sente e comunque arriviamo al punto più avanzato di questa ricerca in Italia una analoga esperienza ci viene da un pittore un po' marginale ma di grande qualità che si chiama Lorenzo Viani numero 20 eccolo qua e qui vedete appunto questo contadino avete visto prima il contadino di Van Gogh e poi dall'altra parte di questa tavola questo gruppo che non si capisce bene sembra una foiba quasi c'è un accumulo di persone una sopra l'altra a creare in alto c'è una maternità che però non è la Madonna è un accumulo di persone che stanno una sopra l'altra a dare il senso di una dimensione di oppressione è un'altra visione il pittore dipinge una visione e qualche tempo dopo nel 1909 dipingerà il folle numero 21 eccolo qua lo vedete il folle ha lo sguardo allucinato Viani è un pittore che si muove nel mondo viareggino dove trova i personaggi più strani e più bizzarri di quel molto alto viareggio è anche la città di Tobino che si muove fra Lucca dove era direttore del manicomio e viareggio dove era nato e qui vedete appunto il folle con l'occhio allucinato è quella figura composta della donna in una pittura che richiama molto Munch che lui sicuramente conosceva per evidenziare il contrasto fra due stati interiori uno stato di tranquillità però ferma fissa e quasi allucinata che è quella della donna e uno stato di fuori di sé che rappresenta l'uomo ancora vediamo un altro pittore di questo tempo un espressionista tedesco che si chiama Kirchner numero 22 vedete dove c'è questa placata figura di donna che medita ma nel cui animo c'è un pensiero remoto lui riesce a cogliere in questo volto così riconoscibile un ritratto è il ritratto di Erna Schilling un turbamento lontano qualcosa che viene da un tempo che ormai è solo memoria e il pensamento di quello che è stato e adesso invece passiamo siamo arrivati a 1927 a un pittore che è stato recuperato attraverso i suoi medici io ne ho esposto una parte dell'opera era una persona di grande sensibilità si chiama Gino Sandri che ha dipinto tutta la vita i suoi compagni di ricovero in manicomio è il numero 23 lo vedete qua vedete ci sono come dire i suoi compagni di pena che stanno su una panchina inutilmente a pensare vedete il primo a destra con la testa sulla mano i volti di questi con questa tipologia che diventa poi quella di Lombroso la testa del matto per eccellenza quest'altro che si carezza i piedi quello che sta disteso è un inventario dei suoi compagni di pena in cui lui ci dà un documento non fotografico di quello che ha vissuto della convivenza con i suoi compagni è un caso interessante è un caso tutto interno al manicomio ma non di creatività prima citavo Merati o Zinelli che libera immagini fantasiose no invece è un documento una rappresentazione quasi poliziesca dei suoi compagni di pena mentre il più grande scultore del primo novecento che è stato lentamente recuperato agli studi da una studiosa che si chiama Paola Mola da Franco Maria Ricci e anche da me che ho collaborato alla prima pubblicazione moderna di questo autore forse l'avete visto lo conoscete una specie di Meshe Smith novecentesco si chiama Adolfo Wilt eccolo qua questa meravigliosa scultura che ha la stessa forza di una scultura michelangiolesca ha un titolo abbastanza singolare il puro folle ecco lui rappresenta il puro folle in questa nudità di un movimento la scultura avrebbe vista poi in tutto il suo volume che la rende tornita in maniera perfetta ma tutto meno che realistica non è il discobolo di Mirone è una forza in movimento non è neanche un'opera futurista è un movimento che è un movimento tutto interiore cioè è una specie di estrinsecazione nel gesto di quello che gli passa dentro il puro folle una delle più belle sculture del novecento italiano 1930 un pittore parasurrealista quindi che si muove nei confini del sogno Victor Browner dipinge la lucciola numero 33 e vedete questo che poi è assimilabile alle fantasie straordinarie e alla Bosch di Dalì dove la follia non è follia della persona ma è estrinsecazione di immagini folli e Browner in questo caso materializza una lucciola come una emanazione di luce che lega le due persone André Masson altro surrealista dipinge nel 38 la metamorfosi degli amanti e vedete anche qui un capolavoro surrealista dove si muovono cose carni anatomie in una specie di come dire una scomposizione dell'ordine del mondo e un altro grande artista che si muove siamo in pieno surrealismo è Max Ernst numero 27 con questo capolavoro che molti di voi conosceranno perché è del primo museo di arte modelli italiano che guarda caso è privato è americano però è italiano ed è il museo Guggenheim ed è la metamorfosi è la vestizione della sposa e vedete come esce dalla mente di questo artista questo nudo di sposa con questa veste fatta di piume di una meravigliosa pelliccia fatta in queste piume rosse e poi lo specchio dietro che proietta invece l'immagine che vedete davanti insomma un capolavoro di elaborazione che va nell'ordine di quello che solo Bosch aveva fatto cioè dimostrare qualcosa che non c'è della realtà è la proiezione di una fantasia calda e allucinata capolavoro del surrealismo mentre nel 37 la follia diventa la guerra è uno dei temi che affrontammo nella mostra di Siena che prima ricordavo arte, genio e follia con l'editore Mazzotta che disse sai la vera follia è la guerra infatti è vero che la gente continui anche in tempi in cui tutti invocano la pace a fare guerra e uccidersi è una forma di follia dell'uomo eppure è naturale evidentemente uccidersi perché altrimenti non ci sarebbero guerre continuamente in ogni parte del mondo e allora l'emblema di questa guerra è il capolavoro di Picasso Guernica in cui vedete appunto il tema che prima ricordavo del trionfo della morte per esempio il celebre trionfo della morte che è a Palermo dove c'è un cavallone in cui passa la morte con la sua falce e travolge le persone probabilmente l'aveva visto anzi sicuramente l'aveva visto Picasso a Palermo ed ecco questo cavallo dominante che fa vedere l'effetto degli Stucas sopra la città di Guernica che viene bombardata durante la guerra di Spagna e l'effetto è questa disgregazione e l'urlo in una mostra recente che abbiamo fatto in Rovereto tra Raffaello e i contemporanei Raffaello in rapporto con Picasso con De Chirico e con Dalì si vede come l'invenzione e la rivoluzione formale di Picasso hanno però dei punti d'appoggio in Raffaello la figura che vedete che alza le braccia urlando una madre che probabilmente ha visto la violenza sui suoi figli è derivata da Raffaello quindi tutto il materiale dell'arte viene riciclato rielaborato per dare l'effetto di una violenza che distrugge taglia scompone che è quella appunto delle bombe sulla piccola città di Guernica che è rappresentata in quest'opera epica del nostro tempo un pittore oggi poco conosciuto che ha lavorato nella scuola romana poco tempo dopo Picasso dipinge gli effetti della guerra numero 29 eccolo qua vedete questo dipinto si chiama conquistatori e vedete qualcosa che sembra appunto l'inferdo di Dante l'idea della violenza che fanno gli uomini agli uomini in una specie di delirio di crudeltà di tortura che è la metafora della guerra il dipinto è del 40-43 e ancora numero 30 sempre ma fai le truppe si divertono vedete lui rappresenta la violenza fascista e l'umiliazione fatta patire alle donne attraverso atti sessuali ed altre violenze di questi uomini neri questi uomini che non sono più uomini sono mostri e rappresentano il male sono la reazione interna di antifascisti durante la dittatura e numero 31 Parimenti vedete un pittore che si muove sulla scia di Picasso molto conosciuto che è Renato Guttuso dipinge il suo trionfo della morte siamo nel 43 alla fine della guerra un tedesco siamo sempre nel tema della follia della guerra Otto Dix numero 32 ci rappresenta l'idea di una città in rovina vedete i bombardamenti ma avanzano figure che sembrano come voler uscire da quelle rovine il titolo è un titolo molto augurale e una nuova vita sorgerà dalle rovine vedete infatti che le donne avanzano e sotto ci sono i campi di concentramento rappresentati degli scheletri delle persone uccise ma c'è una vita nuova che sembra riprendere da questa tragedia che ha travolto l'umanità e adesso arriviamo in tempi più vicini a noi al delirio di un artista che non possiamo dire folle ma che certamente ha mostrato la follia del potere come nessuno e anche la violenza che l'uomo patisce diciamo sulla falsariga del prototipo di Munch nella sua solitudine il pittore si chiama Francis Bacon numero 33 e questo dipinto che vedete è l'elaborazione fatta dopo una visita negli anni 60 a Roma alla collezione Doria Panfili dove c'è il più bel ritratto di Velázquez dipinto nel secondo soggiorno romano di Velázquez del 1649 che ritrae Innocenzo Dettimo per me è un tema molto personale perché io ho vissuto nella casa di Innocenzo Dettimo a Piazza Navona quindi avevo questo sontuoso appartamento ho acquistato la sua villa in campagna vicino a Vitermo che si chiama Maidalchina che è il nome della moglie del fratello che fece la campagna elettorale per far diventare questo Panfili Papa e la cattiveria di questo Papa che si vede in questo ritratto potentissimo forse il più bel ritratto del mondo di Velázquez vedete lui sta tra l'altro oltre cosa destino oltre alle case ho anche acquistato molti anni fa un'opera di Pietro Martire Neri pittore cremonese che è l'unico italiano che ha seguito Velázquez ha lavorato con lui ed è una copia esatta di questo dipinto con la differenza che l'italiano fa un panneggio vedete la tenda dietro molto composta molto ben dipinta mentre questa è indistinta è quasi informale recepisce l'ombra del seggiolone ed è tipica di un pittore la cui libertà è in una stesura pittorica quasi alitata Velázquez dipinge non c'è nessuno che ha dipinto come Velázquez e qui sta dipingendo questo straordinario Papa che sta lì come dire inarccato sul suo potere guardandoti con uno sguardo i papi spesso hanno degli sguardi anche magari pieni di pietas pieni di qualcuno ma questo qui è di una cattiveria senza precedenti è ancora più cattiva era Olimpia Maidalchini che è quella che lo ha aiutato a fare a campagna elettorale che aprì a San Martino Alcimino una casa per vecchie puttane in pensione perché aveva preso tutti i danari delle prostitute romane e poi a un certo punto per rispondere loro ha creato questa specie di ospizio per puttane che tuttora c'è in questa bellavigliosa architettura San Martino Alcimino in Tuscia quindi è una famiglia molto complessa Olimpia detta Olimpia una donna di una potenza quando andavano in Vaticano a trovare il papa sull'asse della porta c'era lei il papa stava alla sua sinistra tanto era potente è un esempio di potenza femminile che precede di gran lunga le battaglie femministe è stata la dominatrice della realtà romana e ha fatto diventare papa il fratello di suo marito che naturalmente è morto ma tutto questo sono aneddoti sulla figura così potente di questo papa che Velasquez ha colto facendone sentire tutta la potenza della crudeltà del potere e quando lo vede Bacon lo capisce così in fondo che ne estrae l'anima e dipinge una decina forse più di cardinali e di papi che sono questi che vedete qua cioè parte dal paradigma di Velasquez ne intende tutta la forza compressa e implicita e la esplicita con che cosa? facendo diventare il trono una specie di prigione di gabbia dentro cui come un animale feroce il papa urla qui non urla ma sentite il suo urlo interiore e lì sta urlando apre la bocca e urla va chiuso va isolato perché è pericoloso perché è cattivo perché è il simbolo del male e quel male che Velasquez ha intuito Bacon rivela la serie degli innocenzi decimo di Bacon è una pagina importante della alterazione della pittura anche più vicina a noi rispetto al tema di una follia che in questo caso è la follia del potere c'è la follia della guerra c'è la follia del potere da questo punto di vista queste variazioni e sono tante indicano che Bacon è riuscito a capire fino in fondo meglio di ogni critico quello che Velasquez aveva detto in questo potentissimo capolavoro arrivati a questa serie di immagini di persone diciamo generalmente sane rispetto al mondo della follia cominciamo a entrare invece dentro i manicomi dove per esempio Vittorino Andreoli ha trovato il gruppo di opere di Zinelli e io recentemente ho trovato a Trento un'altra serie di più di cento disegni dei suoi dei compagni di Carlo Zinelli che è diventato famoso perché Andreoli ha fatto una monografia è stata fatta una mostra c'è una fondazione a San Giovanni Lupatotto si è creato il caso Zinelli come il caso di Gabue che vedremo fra un attimo sono due casi di follia che genera pittura poesia emozione e però è stato interessante trovare in questo piccolo fondo vicino a Trento anche altri sei o sette artisti sconosciuti che hanno lavorato sotto la guida di questo Zinelli come un'accademia dentro il manicomio li vedrete preparerò una mostra per Rovedeto o per Ferrara facendo vedere come Zinelli è importante l'avete visto numero 34 e ha questa tipologia come di una rotelle piccoli movimenti questa specie di ingranaggio che esce dalla sua mente su diverse falsarighe il gruppo che gli sta vicino compone però dei modelli che sarà interessante vedere sono proprio proiezioni della mente dei matti Carlo Zinelli ricoverato dal manicomio di Verona è diventato il classico caso del malato psichiatrico che ha una creatività dirompente esplosiva di cui purtroppo abbiamo solo questa immagine ma certamente è un caso che forse molti di voi hanno avuto modo di verificare quello che invece è diventato un caso trionfante fino all'ultimo film di dritti con l'interpretazione di un ligabue che segue quella di qualche anno fa era stato fatto un precedente film su ligabue con un interprete particolarmente efficace ma l'ultimo che abbiamo visto lo è altrettanto e racconta la vita di questo svizzero che viene portato poi come in una specie di trapianto in Padania esattamente a Gualtieri dove per molti anni vive e marginato in rapporti con il mondo del fascismo di cui lui è inconsapevole come un animale sotto l'argile del Po ecco questa condizione lo rende analogo agli animali ma la bizzarria è che gli animali che lui sente non sono gli animali domestici o gli animali come le galline come i maiali sono gli animali che ha visto nello zoo quando era bambino e quindi dipinge una giugla di tigri leopardi boa leoni che popolano il Po è un pittore di una forza così pura ed energica andiamo a vedere il numero 36 che non c'è dubbio che ognuno se ne sente emozionato la critica avendo degli schemi per cui esistono i movimenti esistono le tendenze esiste l'arte povera esistono i pistoletti tutto quello che viene normalizzato lo ha escluso ma lui si è imposto da solo l'Igabue è un mito della pittura e ha anche valori piuttosto alti di mercato pur essendo stato citaventato da Argan Calvesi tutti i miei colleghi critici l'hanno trattato e lui ha avuto un riconoscimento delle sue capacità da parte soprattutto di poeti e letterati da Zavattini a Vigorelli a quelli che sono stati sensibili al mito di questo personaggio come un animale che poi comincia a dipingere e proietta immagini come queste che sono dopo quelle di Van Gogh le proiezioni più straordinarie di una fantasia alterata che inventa un mondo che non vede perché nessuna tigra si è mai vista a Gualtieri o a Boretto che sono poi gli stessi luoghi di Don Camillo e Peppone immaginate lo stesso mondo negli stessi anni in cui Guareschi inventa Don Camillo e Peppone c'è un pittore che viene scoperto da Mazzacurati amico di Guttuso che si rende conto che questo è un artista e così comincia una lunga parabola che lo porterà a essere non solo protagonista dei film come ho ricordato ma anche pittore amatissimo da Cesare Davattini da Franco Maria Ricci da persone che ne intendono un'anomalia al di là dei limiti di una critica che non riconosce il caso e lo vede come un fenomeno così di costume e quasi invece guardate la potenza di questa tigre e vedete anche nello stesso anno 1956 il suo autoritratto numero 35 eccolo qua un autoritratto quella che vedete sul fondo è l'attore di Gualtieri luogo dove lui abitava ai margini della società qui è già entrato in società quindi è vestito con una ha la faccia lavatto e ha l'aspetto del contadino sul fondo si fa un autoritratto come a come dire dare un decoro borghese alla sua nuova condizione e così comincia il mito di di Gabue il quale farà circa 200 autoritratti esattamente come ha fatto Van Gogh per rappresentare le variabili del suo umore vedete per esempio qua si vede poco che ha una macchia rossa sulla tempia perché lui usava invece di fare come San Gerolamo che si batteva col sasso e il petto prendere un sasso battendosi la tempia per far uscire dalla mente i mostriciattoli che aveva dentro si batteva e quindi lo si vede spesso con una grande ferita determinata da questo atto meccanico che è analogo a quello del taglio dell'orecchio di Van Gogh l'Igabue si vede ancora nella proiezione verso un mondo inventato che è una traversata della Siberia numero 37 vedete il mondo degli animali non deve essere mai visto nella pace del mondo contadino deve essere visto sempre in un tumulto in una guerra certo ci sono anche dipinti in cui rappresentano le aie dei cortili delle case di campagna e quindi c'è un mondo contadino che ogni tanto appare ma l'idea di far vedere in una tempesta in Siberia i cavalli nella loro condizione di grande dinamicità di movimenti è una delle tante invenzioni di questo formidabile pittore il quale si affianca nato nel 1899 e quindi ha fatto il secolo che abbiamo alle spalle a uno nato nel 1906 che merita di essere riguardato con attenzione su cui io mi sono molto applicato che si chiama Pietro Gizzardi il quale dipinge una sorta di cappella sistina a boretto anche lui disagiato ma mentre Ligabue dipinge prevalentemente il mondo degli animali oltre al suo autoritratto Gizzardi Pietro Gizzardi dipinge il mondo degli uomini delle donne e degli uomini delle donne soprattutto che sono per lui felignanamente una ragione di grande passione ed ecco allora il numero 39 che è una donna c'è qualcosa che lo assimila con una pittura molto più veloce e artigianale a Lucien Freud che dipinge nudi maschili e femminili prorompenti e drammatici e qui lui dipinge questa donna con il volto in cui vediamo come le vene ma con una come dire forza di affermazione con una prosperità che era quella che lui ammirava nel mondo femminile che è appunto la componente felliniana e questi ritratti di donne o proiezioni di deliri e desideri diventa poi a un certo punto un intero ciclo in cui si racconta anche non so Adabo ed Eva in casa Falugi a Boretto voi entrate in questa casa e vedete un ciclo di affreschi come sarebbe in una casa del medioevo numero 38 e qui vedete appunto purtroppo non vedete la proiezione dell'interno immaginate un'intera casa affrescata con i ripinti su muro di questi affreschi con anche qui la presenza umana così forte così monumentale ma tratta direttamente dal popolo è un pittore popolare e insieme aristocratico della capacità di far sentire la verità interiore dei suoi personaggi e anche lui meriterà di essere guardato con più attenzione per il futuro e va certamente affiancato a Ligabue perché hanno vissuto nello stesso ambito in quest'ambito padano vicino al Po tra la provincia di Reggio Emilia e quella di Mantua un artista un artista importante e dimenticato più capace di Guttuso come disegnatore e suo amico morto da poco è Bruno Caruso che mostriamo perché ha dipinto in maniera molto rappresentativa e simbolica questo numero 40 questo i veri pazzi sono fuori che mi pare potrebbe essere il segno di questo nostro incontro cioè che la follia è relativa il folle talvolta è un genio come Van Gogh e l'uomo comune è invece un disperato che vive una vita identica tutti i giorni irregimentato dentro un ordine sociale che non lo fa diventare matto ma lo fa diventare un ingranaggio ecco allora gli ingranaggi che avete visto nell'opera di Zinelli ancora Bruno Caruso numero 41 questa specie di incredibile abucchiata dentro un ambito di una stanza di un ospedale psichiatrico si chiama Caos il pittore era tutto meno che folle ma era evidentemente molto curioso del modo della follia e quindi io ho ritenuto i documentari della presenza interessante che Andy Warhol dipinga numero 42 Sigmund Freud è interessante come la figura di Freud occupi l'intero secolo e quindi rivaluti le differenze e le alterità della mente quello che è la ragione di emarginazione quello che è la ragione di isolamento come nella poesia da cui siamo partiti diventa invece una ragione di originalità di visione individuale di cui Freud è in qualche modo il grande sacerdote e Andy Warhol nel 1980 lo riconosce un altro autore vivente fra l'altro che sta nella stessa città di Draghi si vede che si sono frequentati si chiama Mario Ortolani ha dipinto numero 43 La nave dei pazzi eccolo qua ed è un gioco è questa nave che noi facciamo con la carta vedete è una specie di Bosch moderno bamboleggiante infantile e però un'opera con il cappello del prete quindi l'iconografia è una persona molto gentile molto tranquilla non dà l'idea di essere un pazzo ma molto attratto dal mondo della follia che ha rappresentato così come un altro che merita di essere visto è un pittore del gruppo Sulfanta in Italia il surrealismo ha avuto poca fortuna ha avuto alcuni artisti come Stanislao Lepri Leonor Fini ma che hanno avuto poi fortuna in Francia guarienti clerici ma quello che ha avuto un risultato più alto ma diventando poi un pittore assoluto è Domenico Gnoli ma questo filone un altro di Gustavo Foppiani ha tra i suoi artisti un gruppo che si riunisce negli anni 60 a Torino definendosi Sur Fanta il pittore il fondatore di questo gruppo si chiama Lorenzo Alessandri e dipinge delle stanze di un grande albergo dove tutto è possibile e lo vedete al numero 44 ecco guardate quale formidabile intuizione questo hotel dove ogni stanza accoglie qualcosa questa è la camera numero 18 l'opera del 1995 e vedete che c'è una sedia elettrica in cui un uomo improvvisamente perde tutto e gli esce il fumo dalla testa e gli altri sono spettatori fra cui un prete a guardare questa cerimonia Barbara che è una prova di follia la sedia elettrica e la pena di morte in America sono la prova che la follia governa i nostri giorni i veri passi i veri normali sono fuori i veri passi sono fuori e quindi hanno un ordine del mondo che prevede perfino la sedia elettrica che denuncia qui Lorenzo Alessandri il numero 45 vedete una riedizione della stanza delle agitate di Telemaco Signorini un ambiente interno con questo gruppo di donne che si muovono in una specie di irriquietudine irrimediabile ognuna per conto suo senza che vi sia il minimo dialogo vedete anche queste due che stanno a fianco una parla col muro e l'altra sta seduta parlando con se stessa è lo stesso concetto di questa solitudine che impedisce la dimensione sociale a chi vive nella dimensione abissale del suo tormento interiore un altro vicino a Verona che io ho scoperto in una piccola frazione di Verona si chiama Raimondo Lorenzetti ed è una scoperta mia che ho proposto in questi ultimi anni l'artista è tuttora vivente e dipinge delle figure apparentemente normali ma in punti di equilibrio instabile è una bellissima invenzione è un botero squilibrato ed è numero 46 guardate il peso della vita vedete queste due figure che sono collegate fra loro in modo innaturale con un imbuto per cui l'una sostiene l'altra è un rapporto abbastanza normale fra marito e moglie come sapete quindi non c'è nulla di strano è la proiezione del peso di uno sull'altra e anche della tensione entro la famiglia nei rapporti fra due persone che come individui sono perfette come coppie diventano una maledizione esistono gli individui come sapete non le coppie e purtroppo ci accoppiamo per arrivare a produrre degli effetti come questi che sono proiezioni di una mente molto lucida ma in una invenzione assolutamente aliena e ancora Raimondo Lorenzetti numero 47 ognuno ha il suo valore e c'è questo che urla che tiene sospeso forse il figlio il quale si ribalta ma nell'urlo suo c'è la capacità di far muovere i pesi della realtà quindi vedete come sia un artista che ha una sua onesta naivete è un artista apparentemente naif ma pieno di concetti che escono dalla mente di una persona semplice ingenua ma capace di vedere gli equilibri del mondo il peso della vita un altro folle che io ho trovato a Montefano un ragazzo la cui follia è evidente e anche il disagio una volta l'ho invitato a Spoleto mi sembrava che fosse importante farlo arrivare uno dei centri più importanti dell'arte contemporanea dopo cinque mesi di dialogo ha mandato le sue opere erano solo telebianche io le ho esposte tutte ho fatto anche il catalogo tutto bianco poi si è lamentato dico scusa se non hai fatto un cazzo io espongo le telebianche è quello che hai fatto si chiama Massimo Mariano numero 48 e ha fatto questa bella immagine avendo come sua ossessione stabile la figura di Madonna che è la grande cantante che lui in qualunque sua opera ricorda e richiama ma la pittura come vedete è molto felice e libera vedete la singolare firma Mariano quello che sia e questa figura è questo grande quadro che galleggia in uno spazio indistinto verso la campagna infine chiudiamo con un meraviglioso artista a cui ho dato tutto lo spazio possibile gli ho fatto disegnare e costituire il museo della follia e anche il museo della mafia ha lavorato con Cipria e Maresco di cui alcuni ricorderanno Cinico Blog o Blob che era una trasmissione televisiva in cui si vedevano dei bianchereri o dei matti siciliani e lui si chiama Cesare Inzerillo e inventa un mondo che richiama diciamo oggi quello di Tadeus Cantor di cui molti ricorderanno la classe morta uno dei capolavori della drammaturgia del nostro tempo e allestisce degli spazi dove tutto appare visto dalla parte dei morti il suo punto di partenza sono le catacombe dei Capuccini a Palermo e da quelle ispirazioni a tratto un'umanità che come quella dei bambini adulti nella classe morta di Cantor è un'umanità fatta di come dire fantasmi guardate il numero 46 ma purtroppo questo non è suo però provo ad andare a vedere questo è Robusti fai 49 49 no questo è un altro artista molto interessante che si chiama Robusti non so perché ricco Robusti che è omonimo di Tintoretto che vive a Parma e ha questa capacità un po' beconiana di vedere lo spazio risucchiato come dall'alto come vedete che lui è dentro una stanza dove si muovono delle persone che lui vede dal basso verso l'alto è una proiezione che determina degli effetti teatrali e anche emotivi formidabili però non c'entra con Inzerillo vediamo se l'ultima forza eccolo qua questo è Inzerillo invece vedete come lui rappresenta e così si segue il percorso del museo della follia vedendo ogni tanto queste figurine di fantasmi in un letto nella solitudine nel buio tutto quello che avete visto in qualche modo documentato in modo anche realistico come il manicomio degli agitati quello di Signorini diventa in lui una condizione di solitudine accertata e lui riesce a restituirci l'emozione di quella condizione e questo è paziente appunto il titolo lo dice e lui ha seguito tutte le attività che io ho fatto intorno al tema della follia con una capacità interpretativa che è profondamente legata a un abisso interiore alla paura di vivere alla disperazione e quindi alla solitudine che lui rappresenta in questa piccola composizione senza essere affatto matto un uomo lucidissimo quindi avete visto un'alternanza di opere che sono espresse da fantasie accese intendendo la follia come una condizione da cui uscire andando verso un mondo di liberazione è la condizione di Van Gogh è la condizione di Vigabue cioè per loro la follia è il trampolino di lancio per vivere in un mondo diverso e creare un mondo alternativo creare una giungla vedere gli animali dove non ci sono quindi è una proiezione di una condizione di disagio poi avete visto quelli che raccontano da Bosch in avanti fino a inserirlo quel mondo e ne raccontano la condizione di alienazione individuale ecco queste sono delle tracce di quello che si poteva rappresentare in qualunque altro modo ma che comunque documentatamente a partire da Baudelaire è una condizione creativa di genio che esce dalla follia e produce arte degli ultimi cento e trent'anni quelli in cui appunto la follia diventa una molla della creazione tutto questo si comporrà in questa mostra che stiamo preparando e quindi dopo questo incontro e in attesa di un prossimo ritorno a Gorizia vi aspetto a Ferrara il 2 settembre del 2022 ringraziandovi della vostra attenzione grazie